Prima con Salvini, poi con Di Maio. Il punto, il Presidente del Consiglio lo fa in mattinata, prima di salire al Quirinale. Ed è una nota, diffusa nel pomeriggio, a riassumere il senso dei faccia a faccia fra Conte e i suoi vice. Due lunghi colloqui, scrive, sulle nomine da fare in Europa, ma soprattutto sulle misure da mettere in campo per rilanciare l'azione di governo. Da Salvini e Di Maio, Conte raccoglie indicazioni sui provvedimenti che giudicano prioritari e a sua volta illustra quali iniziative richiene strategiche per il Paese. Dobbiamo ancora completare buona parte del programma, ricorda il Premier, che a Lega e 5 Stelle chiede chiarezza. Accelerino i confronti in atto al loro interno per ripartire con determinazione. Per il prossimo Consiglio dei Ministri si attende il voto del blog 5 Stelle che deciderà se riconfermare la fiducia a Di Maio. In serata Conte riceve il Ministro dell'Economia Tria, il focus è sui conti pubblici.